I carabinieri di Frascati hanno portato a termine un'operazione magistrale per quanto riguarda l'accertamento di illeciti per quanto riguarda la detenzione di armi. Questa operazione è stata condotta nella zona sud-est della provincia di Roma e ha portato alla denuncia di circa 17 persone per i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizionamento, nonché poi omessa custodia. Tra l'altro le Forze dell'Ordine hanno effettuato in tutto 288 controlli, sequestrato 21 armi comuni da sparo e 61 cartucce. Questo innanzitutto va da parte mia, da parte di tutta l'Italia dei diritti, un applauso, un apprezzamento molto sentito ai carabinieri della Convenia di Frascati che sono distinti in tantissime altre operazioni brillanti, però questo dato fa riflettere, questo bilancio fa riflettere perché è necessaria sicuramente una maggiore attenzione, bisogna riflettere sulla necessità di maggiori controlli per quanto riguarda il possesso di armi da fuoco da parte di cittadini. Tutto non deve rivolgere soltanto alla criminalità organizzata, diciamo che il caso del cecchino di Guidonia Docetti in qualche modo, il caso del cecchino di Guidonia che ricorderete qualche tempo fa sparò indiscriminatamente per strada, fece morire poi questa sua azione, procurò la morte di tante, di più persone, innocenti tra l'altro, forse è una morte evitabile, evitabile perché innanzitutto ci chiediamo come sia stato possibile all'epoca, ci chiediamo come sia stato possibile dire che un personaggio che era stato estromesso dall'esercito con disturbi psichici piuttosto gravi e si trovava un ex ufficiale dell'esercito, deteneva delle armi da fuoco e questa è una cosa su cui riflettere sicuramente, purtroppo non è un caso isolato tra l'altro, perciò la cosa fondamentale non rivolge soltanto a quelli che sono i reati, poi l'illegalità da parte del, sicuramente bisogna essere, bisogna andarci molto, bisogna agire con grande severità chiaramente per quanto riguarda il traffico di armi, l'illegalità che viene perpetrata quotidianamente in questo settore, armi che vengono detenute illegalmente, bisogna essere molto severi, però andiamo anche a vedere alcuni contesti lavorativi dove magari si vorrebbero forse sicuramente maggiori controlli, per esempio mi riferisco anche al mondo delle guardie giurate, al contesto lavorativo, l'universo delle guardie giurate, l'universo è un po' tutto da scoprire, poi tante persone non conosco, però io in radio per esempio in passato ho fatto tante trasmissioni, ho condotto sulle frequenze di Radio Roma su questo argomento e sono emersi tra l'altro anche con l'ausilio di persone del settore, guardie giurate, ma anche rappresentanti sindacali, come cito per esempio Enzo Del Vicario, seretario del Savip, che appunto è il sindacato autonomo per la vigilanza privata e sono emerse delle situazioni al limite proprio della legalità, ma anche addirittura della tollerabilità, proprio della resistenza fisica e psichica anche di un soggetto, di un lavoratore. Parliamo di casi in cui i guardie giurate vengono impiegate, magari questo è quello che è emerso da queste trasmissioni, è emerso appunto questo che i guardie giurate vengono impiegate in servizi continuativi, magari notturni chiaramente, come è lecito magari che sia, secondo le norme poi sindacali, però dovrebbe poi soffrire il lavoratore di una giornata di riposo, chiaramente di uno smontante, invece cosa succede? Che queste persone penso un'ora dopo vengono impiegate in un altro servizio di vigilanza magari anche piuttosto rischioso e questo significa che viene a mancare la necessaria lucidità del lavoratore, appunto che in quel caso è una guardia giurata che non dimentichiamo possiede armi da fuoco, perciò potrebbe essere da un momento all'altro oggetto protagonista di un conflitto a fuoco in cui la lucidità è molto importante perché magari può sbagliare sicuramente nello sparare, nel mirare etc. Perciò quello che chiediamo noi fortemente come Italia dei diritti, chiediamo assolutamente che vengono rispettate queste norme comportamentali di sicurezza, norme comportamentali requisiti proprio minimi di sicurezza per far sì che venga tutelata la salute dei cittadini, naturalmente l'ingolumità dei cittadini, l'ingolumità del lavoratore in questo caso, perciò chiediamo maggior responsabilità, maggiore attenzione anche agli istituti di vigilanza ma soprattutto anche maggiore attenzione anche alla Polizia Amministrativa che ha il compito proprio deputata istituzionalmente, istituzionalmente proprio per controllare e monitorare, monitorare e nel caso anche perseguire in caso di non rispetto appunto delle norme, questo chiediamo con l'Italia dei diritti e chiediamo fermamente appunto queste cose, questa è una materia in cui bisogna stare molto attenti, tra l'altro le leggi in Italia sono molto severe, sicuramente più severe che in altri paesi, però vanno rispettate, se le leggi ci sono e non vengono rispettate c'è poco da fare, chiediamo agli organi deputati di controllare e sanzionare dove ci siano delle irregolarità e sanzionare pesantemente e chiediamo soprattutto agli istituti di vigilanza di dare il loro contributo, comunque un maggior senso di responsabilità e sicuramente di disponibilità appunto nel cercare di risolvere queste cose. Poi per chiaramente criminalità organizzata ha sicuramente, ci sono delle cose molto importanti, sicuramente fondamentali, perciò ancora ringraziamo appunto i Carabinieri Frascati per questa operazione che tra l'altro ci ha dato un'operazione che ha già dato spunto per ampliare un po' quello che è il raggio del problema, del fenomeno, sicurezza appunto di chi, sicurezza appunto, perciò norme di sicurezza appunto da rispettare, norme comportamentali ma di sicurezza per chi detiene un'arma da fuoco, perciò severità anche nel concedere i permessi, il porto d'armi, maggiori controlli insomma, questo sicuramente è quello che auspichiamo, ma auspichiamo come Italia dei diritti, ma lo auspichiamo come cittadini e che tuteliamo l'incolumità e i diritti dei cittadini, perciò in questo caso sicuramente maggiori controlli, sicurezza per l'incolumità dei nostri diritti dei cittadini e ancora un plauso ai Carabinieri di Frascati.